Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale, sono Divix, in questo video importantissimo che potrebbe cambiare completamente lo scenario del futuro dell'Inter e eventualmente dei futuri proprietari dell'Inter se l'Inter dovesse veramente cambiare proprietà. Ovviamente stiamo parlando della notizia che è uscita ieri e cioè che il FERPE finanziario potrebbe morire o perlomeno morire per come lo abbiamo visto e vissuto in questi anni noi e potrebbe nascere un nuovo FERPE finanziario con le regole un pochino diverse che cambieranno completamente il mondo del calcio. Vi spiego tutto nel video, come sempre però prima di commentare e farmi domande guardate il video, buona visione! Ve lo avevo promesso ieri sera in live, anzi ringrazio chi è stato in live ieri sera con me su Twitch avevo chiesto se preferite fare un video sul FERPE finanziario o eventualmente sul discorso dei diritti TV avete scelto il FERPE finanziario e non sapevate forse che questo video riguardava veramente e da vicino l'Inter prima di spiegarvi però perché il FERPE finanziario, le modifiche del FERPE finanziario possono riguardare anche l'Inter dobbiamo fare un passo indietro e capire come mai il FERPE finanziario sta cambiando. Prima di tutto per tutti noi il FERPE finanziario è sempre stato visto come qualcosa di drammatico quando si parla di FERPE finanziario subito tutti quanti fanno oddio non possiamo fare mercato, non possiamo comprare quello, non possiamo comprare quell'altro bisogna vendere, bisogna fare soldi, bisogna fare cassa, plus valenza, i giovani lo sapete di cosa sto parlando perché in questi anni non si è fatto altro che pensare al FERPE finanziario in questo modo e la motivazione è che il FERPE finanziario impone delle regole rigide, molto rigide una delle regole più rigide è il fatto che i bilanci, le squadre devono essere a zero cioè non ci devono essere bilanci negativi o perlomeno molto negativi perché sennò poi arrivano squalifiche, multe, c'è il settlement agreement, sapete tutti come funziona quindi inutile parlare adesso di le conseguenze del fatto di non avere un bilancio a zero la seconda regola è si spende quello che si fattura, anzi bisognerebbe spendere meno di quello che si fattura c'è un costo rosa che deve stare sotto il 70%, il costo rosa sapete tutti cos'è ho fatto diversi video sulla finanza nel calcio, c'è una playlist dedicata quindi se avete dubbi andateli, guardate, sono spiegate in maniera molto molto semplice e per ultimo il più importante di tutti, il più importante di tutti è quello che i proprietari non possono mettere soldi loro nei bilanci del club quindi, lo ribadisco, ripeto, perché ancora qualcuno ha le orecchie turate e non l'ha ancora capito non sono i proprietari che mettono i soldi per le campagne acquisti i proprietari possono fare delle sponsorizzazioni limitate limitate, devono coprire eventuali buchi con delle ricapitalizzazioni ma non possono mettere soldi loro, cioè non possono ogni anno andare lì e mettere 100 milioni di euro per la campagna acquisti, non si può fare e questa è una di quelle regole che sta per cambiare arriviamo però al motivo per cui sta cambiando molto semplice, le squadre appunto come vi ho spiegato prima possono spendere solamente quello che hanno incassato anzi, meno di quello che hanno incassato pertanto l'obiettivo è aumentare il fatturato come si aumenta il fatturato nel calcio? solo in un modo principalmente in un modo comprando grandi giocatori questo è il segreto non ci sono altri segreti guardate cosa è successo al Paris Saint-Germain guardate cosa è successo al Manchester City sono arrivati degli shakey hanno messo dei soldi tantissimi soldi hanno comprato tantissimi, grandissimi giocatori magicamente il Manchester City il Paris Saint-Germain sono diventate due squadre che fatturano un sacco di soldi e senza l'acquisto di questi grandi giocatori per questi shakey sarebbe stato impossibile portare il fatturato nel Manchester City e nel Paris Saint-Germain a questo livello sarebbe stato impossibile pertanto cosa succede? che tutte le squadre che avevano necessità di aumentare il fatturato compravano giocatori non potendo comprare grandi giocatori perché non avevano soldi e per regola del frappè finanziario sono cominciate questo business delle sponsorizzazioni sponsorizzazioni che poi in alcuni casi erano anche sponsorizzazioni fittizie e sono quelle per il quale è stato accusato il Manchester City l'anno scorso poi è scagionato cosa succede però? che quando una squadra è di proprietà di un solo imprenditore che ha una sola azienda è facile vedere se le sponsorizzazioni sono fittizie quando una squadra ha un proprietario che ha una holding di aziende in tutto il mondo una rete di affari in tutto il mondo come fai a verificare se questa sponsorizzazione arriva realmente dalla rete di business di questo imprenditore di questa holding? è impossibile quello che è successo al Manchester City che poi si è rifiutato di aiutare la UEFA nell'indagine la UEFA l'ha multato l'aveva squalificato poi facendo ricorso hanno detto ma non ci sono le prove che queste sponsorizzazioni sono finte e quindi gli diamo soltanto una multa questa è stata la morte del frappè finanziario la vera morte del frappè finanziario perché se la UEFA non è in grado di squalificare una squadra che fa sponsorizzazioni fittizie perché non è in grado di provarla e non è in grado di provare neanche la Guardia di Finanza quindi figuratevi la UEFA è ovvio che non si può proseguire su questa strada successivamente a ciò è arrivata la crisi tutti i bilanci delle squadre sono drammatici quest'anno e l'anno prossimo non saranno migliori dato che non si va allo stadio c'è un grandissimo calo di soldi che girano intorno al calcio e questo riguarda anche i diritti tv ne farò un altro video dedicato perché proprio le offerte sono tutte a ribasso drammaticamente a ribasso ragazzi drammaticamente a ribasso e se le offerte sono queste cambierà completamente il regime di spesa nel mondo del calcio arriviamo a quello che succederà quindi la UEFA pare che abbia deciso di inserire nuove regole che potrebbero riguardare anche l'Inter e adesso vi spiego per quale motivo le due regole che vuole cambiare la UEFA sono molto semplici la prima porre un limite alle commissioni degli agenti perché si sta andando sempre più in una strada che prevede giocatori che vanno a scadenza di contratto per fare in modo che gli agenti poi possano portarli a una nuova squadra e prendere commissioni altissime e voi pensate dieci anni fa quanti giocatori andavano a scadenza di contratto veramente pochissimi veramente pochissimi adesso ci sono squadre fatte con 4-5 titolari tutti presi a scadenza di contratto ma tanti e sono tanti e sono forti pensate che il Milan è secondo in campionato e c'è Donnarumma e Cianoglu tutte e due in scadenza di contratto è incredibile sono due perni della squadra sono tutte e due in scadenza di contratto è un'usanza a cui si è arrivati proprio perché i procuratori preferiscono arrivare a scadenza per prendere una grande commissione e questo lo UEFA sta cercando di limitarlo e devo dire che è giusto anche che si possa porre un limite un freno alle commissioni degli agenti che non possono essere smisurate il secondo aspetto che vogliono cambiare è quello forse più importante e cioè inserire quella che viene dominata la luxury tax che già esiste ad esempio in NBA in NBA ci sono dei limiti c'è un salary cap quindi i giocatori non si comprano per chi sa come funziona ci sono delle trade degli scambi però poi quando c'è una squadra che sfora il salary cap c'è una luxury tax quindi si paga si paga l'NBA una tassa molto salata anche in alcuni casi che il ricco imprenditore può decidere di pagare per avere con sé una squadra fortissima con tantissimi campioni e voi direte probabilmente ma questa è un'ingiustizia e adesso vi spiego perché a mio avviso non è un'ingiustizia tutti voi vi siete lamentati che in questo periodo le uniche offerte che sono pervenute all'Inter sono offerte di fondi e per lo più fondi speculativi e mi avete detto ma perché non ci capita un bello sceicco un bel ricco imprenditore la risposta è in questa limitazione della UEFA cosa prende a fare una squadra un ricco imprenditore se tanto non ci può mettere i soldi e non può farla grande in poco tempo e deve lavorare col marketing negli anni con progetto cioè io che sono ricco voglio prendere una squadra e dire metto 500 milioni faccio un bel mercato e mi faccio una squadra forte non lo possono più fare è per questo che i ricchi si sono allontanati dal mondo del calcio con la luxury tax si può fare entri dentro il circuito metti i soldi vuoi sforare perché sei ricco vuoi mettere più soldi benissimo puoi farlo però paghi una tassa una tassa che poi pare che loro vogliono addirittura ridistribuire nel circuito quindi magari inserire nei premi della Champions League non si sa ovviamente una parte se la trarrebbe la UEFA perché non regalano soldi a nessuno però sarebbe una tassa che viene poi rinserita nel circuito e ridistribuita poi a tutte le altre squadre non è male questa cosa non è male perché se dovesse essere inserita in questo momento o perlomeno nei prossimi mesi potrebbe essere importantissimo in vista Inter perché diventerebbe così appetibile una squadra come l'Inter a dei grandi imprenditori dei ricchi imprenditori dei magnati degli sceichi che vogliono magari investire nel mondo del calcio mettere soldi e fare grandi una squadra che comunque è già un marchio un brand molto importante nel mondo attualmente questo non è possibile non è possibile farlo ma con la Luxury Tax sarebbe possibile e quindi perché è importantissimo per l'Inter proprio per questo motivo perché ci toglieremmo forse dalle scatole tutta questa serie di speculatori fondi che cercano soltanto di prendere per poi rivendere e far guadagno non ci interessano non ci interessano perché noi siamo l'Inter siamo una squadra che comunque sia punta a vincere deve essere una squadra che ha obiettivi grandi e non deve essere una squadra che viene comprata da un fondo che la vuole tenere lì per guadagnarci dei soldi questa è la mia opinione ragazzi sulla modifica del ferro finanziario scrivetemi qua sotto cosa ne pensate se sapevate di questa possibilità e se avete altre domande non c'è problema rispondo come sempre se non siete iscritti al mio canale e vi piace il calcio ma soprattutto se vi piace l'Inter iscrivetevi ciao ragazzi